Ciao ragazzi, finalmente dopo quasi due anni si comincia a vedere un piccolo barlume di urbanità, ovvero sono in quel di Milano, sono ospite di Fushifilm per provare, mettere subito le mani sull'ultima novità presentata. Oggi si parla di Instax, quindi di fotografia istantanea, vi mando qui sopra il video che ho fatto insieme a Giorgia provando due delle Instax, oggi si parla del formato wide, il più cicciotto della categoria. E oggi si era venuto su speranzoso perché speravo che fosse un nuovo modello di fotocamera. Infatti ad oggi per il formato wide c'è solo lei, la Wide 300, che si funziona benissimo ma sembra uscito da una puntata di Stranger Things. Invece oggi purtroppo no, non si tratta di una fotocamera ma di una stampante, si chiama Link Wide, in cui Link non c'entra niente Zelda e la Nintendo, ma il collegamento. Lei si collega sia ai nostri smartphone, sia a quelle che sono delle fotocamere, le fotocamere Fushifilm con un nuovo firmware, per andare a stampare e stampare per l'appunto in formato wide. Ma subito dopo la sigla ve ne parlo in dettaglio. Eccola qui, si accende proprio così, basta un tocco, compare questa scritta luminosa e lei è pronta. Lei ovviamente lo capite, funziona a batterie, è fornita sia con un laccetto da mettere qui, quindi possiamo appendercela sul zaino, sia con una basetta per un uso più classico, diciamo un uso da scrivania mare vicino alla nostra postazione di lavoro. Tutto il resto si fa tramite la sua app dedicata, che permette tramite bluetooth di fare di tutto di più. Ovviamente possiamo prendere una qualsiasi foto che abbiamo fatto con il nostro smartphone ed eccola qui, andarla a stampare. Bella, semplice e subito visibile con la solita magia che vediamo nella fotografia istantanea, che esce fuori una stampa bianca, ma dopo circa 4 minuti l'immagine si forma perfettamente. Si è mostrato la foto quella mia al museo di Kate Herring, lasciate perdere la mia pronuncia. Ma ovviamente si possono fare tante cose, sì ovviamente la cosa più bella è quella, avere tante stampe, stampe dei nostri ricordi, perché il bello di avere una foto del genere, che possiamo appenderla, quindi creare in salotto una serie di immagini, i nostri ricordi più belli della nostra moto, delle nostre vacanze, oppure creare cose molto particolari. Esempio, possiamo andare a scansionare una scritta e farla diventare una filigrana che possiamo andare a mettere sopra alle nostre immagini. Possiamo anche andare a metterci un QR code, quindi per non far diventare uno di questi come un nostro biglietto da visita, il cliente vede l'immagine che proponiamo, andando a prendere il QR code, finisce sul nostro sito web, sulla nostra pagina, sul mio canale YouTube, giustamente. Oppure anche alla facciaccia del buon Galimberti, ciao Maurizio se mi stai guardando, si possono creare con grandissima semplicità dei mosaici, dei collagini, l'avrò detto bene in francese non sono sicuro, di effetto, di impatto. Non solo, mi hanno anche detto, ma l'abbiamo anche sperimentato, che sta arrivando un nuovo firmware per le fotocamere Fujifilm. Quindi sulle fotocamere Fujifilm, adesso è in versione beta, quindi ancora non è in versione definitiva, potremmo andare a stampare. E c'è un'altra cosa che mi è piaciuta davvero. Abbiamo visto che se tu gli mandi una foto in full HD, quindi 1080 al lato lungo, la qualità è un po' così così. Se gli mandi invece una foto da 5000 pixel al lato lungo, la differenza tra le due, caspita se si vede. Quindi sono effettivamente pellicole di qualità, come Fujifilm ce ne ha imparato nel corso degli anni, e l'app non la va a spappolare, a distruggere. Prende e permette di portare fuori il dettaglio se questo effettivamente è presente. Quindi un oggettino particolare per tutti quelli che vogliono avere qualcosa di materico, di tangibile. Non lasciare le nostre foto che muoiono dentro della disca, ma prendono effettivamente una vita vera e propria. Se è effettivamente disponibile alla fine del mese d'ottobre, quindi diventa un'idea, regalo molto interessante, costerà 149,99€, IVA inclusa, sempre se non mi sbaglio. Ovviamente una rapidissima impressione, positiva, anche se lo ripeto ancora una volta, Fujifilm, se mi ascolti. Prendi questo corpo macchina e portalo nel 2021? Ci vuole, ci serve e ci piacerebbe tanto tanto a tutti quelli che sono, come me, innamorati di fotografia e innamorati anche di fotografia istantanea. Ciao ragazzi e al prossimo video!